Giuseppe Bacchi Reggiani Buongiorno, io sono Giuseppe Bacchi Reggiani, sono sposato, ho tre figli, vivo nel quartiere da sempre e mi occupo nel lavoro di bilancio e controllo di gestione per l'ARPA, l'Agenzia Ambientale per la Prevenzione dell'Ambiente e dell'Energia dell'Emilia-Romagna e oltre al lavoro ovviamente ho una vita come tutti e sono all'interno di associazioni, lavoro in parrocchi anch'io e mi occupo soprattutto di attività educative e sportive per i ragazzi perché sono attività che inseriscono, aiutano a fare squadra e a fare amicizia e la mia candidatura è proprio legata a mettersi al servizio di queste tante realtà di cittadini, di associazioni che già operano nel quartiere, che già fanno tanto bene a tutti perché rendono più vivibile e più in rete la città e vorremmo essere al servizio di questa realtà.